Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi andremo a vedere una delle due videoclip fatte al Roma Music Expo del 2018. Quella che vedremo oggi è quella dedicata allo stand Yamaha, quindi vedremo solo strumenti Yamaha. Chi non l'avesse ancora fatto, vi ricordo di iscriversi al canale e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Detto questo, vediamo la videoclip dopo la sigla. Iscriviti al canale, a te costerà un secondo ma a me darai una grossa mano a portare avanti questo progetto. Ricordati inoltre di cliccare sulla campanellina per non perderti i miei prossimi video. Iscriviti al canale 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 Iscriviti al canale